L'elemento che poi ci ha un po' intrigato nel portare avanti il progetto di Daniele è stato anche il fatto che Instagram è un qualcosa che permette di agire e di inserirsi in modo trasversale nei vari ambiti dell'arredamento. Siamo partiti dal bagno ma ovviamente questa cosa può essere progettata per elementi dal living o della cucina e quindi ha delle potenzialità di inserimento nei progetti molto importanti e questo è un altro delle cose che rientra nelle nostre corde in quanto Vaselli ha sempre prodotto e proposto prodotti che non siano bloccati o vincolati ma completamente customizzabili e adattabili alle esigenze del progetto. In cui ci inseriamo